E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Aroid e oggi vedremo la mia nuova build, Stinger Zane, basata sul melee, sì, avete capito bene, per Zane. Detto ciò, vediamo subito come funziona. La combo principale di questa build è uno Stinger, più tutto quello che c'è intorno, che va ad aumentare il danno. Quindi, nello specifico, i componenti che andrò ad utilizzare saranno uno Psycho Stabber, da avere sempre in mano quando si utilizza lo Stinger, per praticamente quadruplicare, quasi quintuplicare il danno, Face Puncher e Mesh e Blade Fury, nel mio caso una versione Mesh, per eliminare i nemici lontani con cui non arrivereste con lo Stinger, oppure per quando finisce a terra. Stinger, che è lo scudo principale di questa build, che va a far danno melee con una nuova quando viene rotto. Utilizzando il cannone e la consacrazione è possibile spammarlo. E baffando danno melee si fanno tante cose divertenti. Fish Lap, classica granata, che fa danno melee. Ero molto indeciso sulla mod di classe, ne ho provate varie, e quella con cui mi son trovato meglio è stata la Conductor. Non tanto per quel 50% di danno elettrico bonus, ma perché quei 5 punti nell'abilità verde, vedremo a breve, danno cooldown dell'abilità d'azione. Che schifo non fa. E infine, un Unleashed Dragon, che va ad aumentare ancora di più i nostri danni melee, e perciò che non muore con la nuova dello Stinger, prende fuoco per danni assurdi. Giusto per mostrare le abilità, sono andato quasi totalmente a caso, diciamo, sono pochi i punti interessanti. Per quanto riguarda il lato viola, non c'è nulla di interessante, se non forza di volontà per il CDR dell'abilità. Nulla di più. Per quanto riguarda il blu, mi interessava avere slancio violento, velocità violenta, per correre più forte. E un punto in salvezza, giusto per curarmi, visto che tanto ormai l'avevo sbloccato, anche un punto in furia cieca, per aumentare tutte le abilità d'azione. Nel ramo arancione, invece, troveremo sincronicità per aumentare il danno arma mentre abbiamo il drone attivo, e nel mentre, Dark Tape Mod, magari riusciamo a spalare una Fish Lap quando siamo a terra con il Blade Fury, ed è probabile riuscire a tirarsi su in quel modo. Per quanto riguarda, invece, il ramo verde, appunto, come vi ho detto, Adrenalina, ha 5 punti. Potevo mettercene altri 5, per aumentare ancora di più il CDR, devo essere sincero. Però in questo caso ho preferito dare un pochino di tankiness a questo Zane, che si deve avvicinare molto ai nemici, e finire a terra spesso non mi piace. Nel caso non vi interessa tankar di più, potete togliere dal sangue non è acqua, potete togliere dall'altezza e mettere questi altri 5 punti extra, tutti in Adrenalina, e aumentare il CDR ancora di più. Comunque, la cosa veramente importante di questo ramo è calmo e composto, perché se riusciamo a mantenere vita ed energia al massimo quando facciamo delle kill, riusciamo a curarci. Certo, la probabilità di congelare è molto bassa con le varie skill che abbiamo, ma se ci riusciamo si guadagna un CDR enorme. In tutti i modi, non ci sono molte skill di Zane che possono farlo andare bene, quindi praticamente qualunque albero abilità funziona. L'importante è riuscire a spammare il cannone ed avere queste due abilità. Fine. Per quanto riguarda i guardi gardiano, come al solito, ce li ho tutti attivi, e Chaos 11. Andiamo a testarlo su Atenas. Siamo quasi arrivati, quindi ovviamente vi ricordo di iscrivervi per non perdervi tutte le mie prossime build. In più, un piccolo extra sullo scudo di cui parlavamo prima, lo Stinger, io non sono riuscito a trovarlo, purtroppo, ma se lo trovate congelante, allora sarà perfetto. I nemici che non moriranno, oltre a prendere enormi danni da fuoco, verranno appunto congelati e attiveranno tutte le nostre skill del ramo verde. Ho farmato per più di mezz'ora, non l'ho trovato, e sinceramente, visto che la build shottava comunque, non sono andato a farmarlo più di tanto. Quindi, andiamo a guadagnare velocità in movimento e facciamo fare puff ai nemici. 21 milioni. Ah! Ah! La distruzione. Andiamo a prendere il Black Fury, va? Non ho ben capito perché il Black Fury non stia broccando l'unleash del dragon contro quel super gigante. Visto che in teoria dovremmo sorpassare la sua immunità, tramite l'abilità finale viola, però va bene. Proviamo di nuovo su questo. Questa volta ha funzionato. Oh, i tipi danno. Che goduria. Proviamo anche il Face Poundcher, tanto per. Face Poundcher purtroppo fa dei danni abbastanza miseri. Andiamo a far combo completa con anche il drone. E adesso i danni sono un pochino migliori. Non ancora quelli che vorrei, ma ci si accontenta. E il Black Fury fa danno anche senza andare a proccare danno a mili, eccetera. Vedete che potete utilizzarlo senza problemi. Anche se non trovate la versione Masha e utilizzate quella normale, non c'è nessun problema. Pronto, l'abbiamo già sciolto. Dedichiamoci a Graveward. Eccoci, quindi, arrivati da Graveward. Vi ricordo, come al solito, che il save file di questa build sarà nel mio Discord. Link in descrizione. Quindi, per i boss bisogna togliere il drone e utilizzare le granate, mi raccomando. Andiamo a lanciare queste due, vediamo se vanno a colpire. E purtroppo state vedendo il problema di questa build. Per quanto sia forte a livello di danni col mobbing, centinaia di milioni, contro i boss è qualcosa di inguardabile. Non so se è perché c'è un qualche modificatore del danno o cose del genere, ma è letteralmente inciocabile contro i boss. Purtroppo lo state vedendo. Tron rimane abbastanza shottabile perché è possibile tirarci tante granate in poco tempo, ma per il resto, purtroppo, non si può far di meglio. Bisognerebbe andare a puntare su altri tipi di armi invece che quelle che sto utilizzando, ma a questo punto non sarebbe più Stinger Zane. Sarebbe qualcosa di completamente diverso. Per cui, direi che il video è finito qua. Se volete vedere un'altra build di Zane che invece si basa su qualcosa di un pochino più normale, cliccate qui. C'è un'altra build di Zane che è un'altra build di Zane. Grazie a tutti.